San Giovanni a Natisone festeggia i suoi alpini. Era il 1925 quando veniva costituita la sezione composta in gran parte dai reduci della grande guerra. Le penne nere ne l'occasionano e coinvolto anche i bambini della scuola primaria. San Giovanni nel 1942 è stata la stazione di partenza dei soldati dell'Armir durante la campagna di Russia. Purtroppo molti di loro non fecero più ritorno. La parola al capogruppo Beno Alimonda del Manentreu. Un impegno costante, 365 giorni all'anno per 90 anni. Io se devo dire personalmente dedico agli alpini come minimo 2-3 ore del mio tempo libero al giorno. Che conta le SIP sul TOC? Gli alpini danno e non pretendono di ricevere. Questo è importante. Lo spirito? Lo spirito che ci hanno tramandato i nostri padri di essere legi a quanto abbiamo giurato, a quello che sono i dettami della Costituzione italiana e del civile vivere. Non resta che dire sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. Mai molato. Allora accanto a noi viene il vice sindic di San Zuan, Anna Bogaro. Viene manifestazione per i 90 anni dell'associazione locale. Da anni, ma soprattutto, che conta? Ci sono altre iniziative inerenti alla Prima Guerra Mondiale. Sì, proprio di orsare abbiamo avuto una conferenza sul 1915 e le vite tra i retrovisi in queste zone, tra i frioli in generale, tra la grande guerra. Con la dottoressa Federica Nassic. È stato un lavoro interessante. Abbiamo avuto spesso in edizione della vita, di ogni idea, dei provvedimenti legislativi, scuintri, non sai, l'uso da armistri di fuoco che non si poteva indoprire, fur che tra i teatri di combattimento, piuttosto che, non sai, cresci, vigliei, più di tanti, e via andiamo. E questo progetto, che è la grande guerra, è un progetto di estercultura, che mette in ogni settimana, come un'altra zona, di capofile, manzano, con le San Zuan, Prada, Mampa, via di Udin, Quart, ho curioso di smentare qualche prima riace, che appunto tagliate le celebrazioni della Prima Guerra Mondiale, e mettono iniziative sul Faticine Forum, scrivono conferenze, e dopo l'evento clou, il 23 di maio, in Pakistan, tutti gli invitano a visitare dagli Udri, a partire dal svolto di sera, e le dobbiamo andare sugli Udri per chiamare la pazza, in riguardo al preencollo di fusil, che le sta tirando dalla Prima Guerra Mondiale, in quell'Ocle, e lei sarà un momento di disegno di prolusione della guerra di finanza, perché sono soldati alle finanze che sono coinvolte, e dopo sarà tutto il momento dedicato all'aspetto della pazza, all'articolo di scostituzione, all'Italia, le pudi e le guerre, e via di avanti. Sarà un momento, un lavoro importante, che culminerà Torlis di Semiez, con convitanze dall'ora. Esattamente, quindi tutte le cittadinanze, insomma, da zone, non ho mai invidati a partecipare. Allora, vedi qua, Celestino, il maglio e il bello? Eh, tutto che dici, eh, l'ottorio di oggi, che è potente. Sento divertuto, eh? Eh? Sento divertuto. Eh, un po', abbastanza. Siete chiaminato, no? Eh, un bielo, le spilate, capito? Eh, la sua bielo. Alla roba importante. Dio al tempo, eh, anche. Sì, sì. Grazie a Fidel Bevitaio. Sì. Allora, voi di mattina, se sei venuto sul Movimento, no? Ecco, prega, tira sulla bandiera. Eh, Dio, dovevi farlo, perché era il mio compito, no? Eh. Ecco, se volete i 90 anni di Alpins a Sanzua? Madonna, 90 anni, se l'è un orgoglio per noi, benedetto. No? Eh, 90 anni, sono 90 anni, se? Eh, c'è tu che ti dici, non mi fai neanche le parole, c'è che ti dici? Insomma, che che conta lei? Che si va su con i carnevai, ma la plume? E le plume, tutto c'è stracca che io, le vi ho detto tutto c'è stracca che io. E io sempre chiesto a tu. Di che volta? E stracca, e c'è il male che non vengono a scambio, no? È che, è il male che non vengono a scambio, non vengono a scambio. Sì, 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 e ho visto che ho cominciato, come ricorrenze con i giovani, con le campanze e un ritocco a ogni giovane, a ricordare queste persone sono morti durante la prima guerra mondiale, e ci dà un ricordare, che hanno memoria del giovane e delle persone. Da dove è questa campanze dei colpi? Io sono abituato, sono abituato, no, no, sono abituato. Sì, è un po' di giornate da Donade Nazionale di Aquile, però a San Juan si torna a vivere, respirando al profondo dell'Alpenio. Beh, è un anticipo, ma è un anticipo, perché i 90 anni che vuole, il gruppo sta festeggiando, ovviamente è importante. Importante, perché se sono 90 anni vuol dire che che hanno seminato dal 1925, quindi riduce le prime guerre mondiali, sono stanno veramente lungimiranti, quindi sapevano che c'è che loro affacevano per comunità, e ovviamente partendo da ogni alpino, ma partendo da ogni un po' tutto, dopo che avevano patito le guerre, a dare i risultati, i risultati sono visibili, anche voi a Vignodosco e a Friuli delle scuole, una partecipazione corale veramente importante. E il gruppo di San Juan si dà di fare in ogni occasione, perché i alpini si vengono inclamati in tutto e da parte tutto, non lo sai perché, forse perché sono un brazzo, forse perché non sono buoni di dire di no, e quindi anche loro, le loro attività, le sport in indenente, veramente con serietà, e avvanno sempre a buon fine. Quindi questo vuol dire che c'è che non è stato insegnato, a Vignodosco anche ora, ma non vengono di tenere per noi, c'è che non è stato insegnato, non vengono di trasmettere, e vengono di trasmettere, ovviamente, in estri sfruz, come c'è in chi vuole, che è di scuole. Perché il conto è soprattutto che San Juan ha questa particolarità, che di qua sono partiti tanti a seconda guerra mondiale, per il fronte a Russia, sono proprio partiti da scuole di San Juan? Da scuole di San Juan, tanti sono partiti e purtroppo poi sono tornati, assin a quattro passi da quel che veramente sui cari bestiame allevi in via, in estri giovani, e purtroppo, perché poi si domandano, le guerre ovviamente non fanno bene di nessuno, le guerre, anche ai vincitori, a piardino, perché là si insultano in città e muoce, però, senza tutti, hanno insegnato, hanno insegnato quel di Stadonghe, hanno insegnato quel di Udasi, e hanno insegnato che le guerre hanno sondi fa, e quindi noi, quanti festeggi, abbiamo sempre un ricordo a chi non sondi, poi, ma coraggiosamente noi vi invoio che le passi a sede imperanti, e che continuano sempre, anche italiani, di seguire, perché i nostri sfisi, ovviamente, hanno di essere in tranquillità e in pazza. Ecco, soprattutto, perché che riguarda invece la donade dell'Aquila, si non si può preparare? Ma, perché che riguarda l'Aquila, ognuno ha vajuto, per socconti, qualcuno ha organizzato, corrieri, qualcuno ha roulotte, un qualsiasi mese, ma è che purtroppo l'Aquila è lontana, i momenti che si chiedono sono un po' particolari, di difficoltà, e così via, quindi un alpense, due volte, prima di affrontare, non tanto il viaggio, ma un'espese, perché ovviamente, a costa, a costa, la via. Ma non ho disperito, perché gli alpensi rispondono sempre bene, quindi, che che sono stas, avrò, col terremodo dell'Aquila, senza atti, a son presings, ma anche per tornare a tassi, per i periodi come che, ovviamente, io vino la sas, ma anche per tornare a salutarci, perché, senza atti, non stanno aspettando, per ringraziare, dice che non ho fatto l'Aquila.